Il tappeto rosso è tutto per lei, la fritta italiana conosciuta in tutto il mondo, Lofia Gioffre, Chattel, il motore, azione! Miss Roma 2006 è la concorrente numero 3, Maura Angie Maratta! Applausi! Alegria! Applausi! 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 regala per te, non è bella questa cosa, non è bella però, grazie di tutto, è stata molto gentile, sei di Pomezia? Grazie per la visione! Ho incontrato due signori per le scale? Conoscenti? Non lo so, è possibile! Cantati, previ, dolce mortale! Le posso dire una cosa in marzo? Sì, ovvio! Soltanto adesso so cosa è la felicità! Oh, felicità! La tua casa che si chiama sotto me è copertata in avicina La finestra che guardano in avicina La finestra che guardano in avicina E allora quando è così, chiudete di conferma di voi, se vede che ti piace di stata una donna che manco ti fa toccare, le bombacca perché posso. You act like you don't know me, my god you tempt my anxious mind. Avevo fatto un voto, avevo detto, madonnella mia, mi taglio i capelli, ma salvatelo. Ma se erano così belli. Apposta me li so tagliati, ma che mi importa, basta con te la bellezza mia, muo la gente per strada se le ruota solo per te. Guardala, quella è la donna di Rugantino, così tu ce lo sai e ce lo saprai per sempre che non c'ho più grilli per la testa. Tu angelo a chi mi ha, sei l'angelo di Castello. E dove te fa? E poi, poi che vorrei me lasciate. Lasciate, lascia, lascia non te la notte, lascia non te la notte. Grazie a tutti